Sono stati sorpresi dalle fiamme altissime i proprietari di un'officina che si occupa di autoriparazione di mezzi agricoli nel cuore della bassa Bresciana a Villa Nuova di Verona Vecchia. Erano da poco passate le 3 di questa mattina quando la famiglia, che abita circa 50 metri dall'officina, si è svegliata di soprassalto a causa di un forte rumore, generato probabilmente dallo scoppio di uno pneumatico. Usciti di casa, i proprietari hanno visto il rogo che stava mandando in fumo anni di attività. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono giunte 4 squadre di vigili del fuoco da Verona Nuova, orzi nuovi e chiari e autopompe del comando provinciale di Brescia. Ci sono volute parecchie ore, prima di domani è completamente l'incendio, ma nel frattempo questo è ciò che resta dell'officina. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a mattina inoltrata. Nel rogo sono andati distrutti anche alcuni dei mezzi presenti nell'officina, ma fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, ma l'ipotesi che i tecnici stanno vagliando è che sia stato provocato da un cortocircuito.